questo è il discorso? fai schifo! allora, il mio discorso è che Romaiore, Capezzano Grazie Valetta, grazie, benvenuta, grazie mille, saluta anche Nocchi, eh, con furore, Nodiamun, ne soppi, ci riteniamo propusosti, erano Locchi libera, Locchi libera, locchi libera, No, no, gnocchi No, Laura, così outro discorso Ma le police, c'ho più qualche dies Gracci, non sopperti Sono Sara Tommasi che mi piace cercare i vasi Questo è il discorso, fine